Dopo aver visto le linee generali della differenziazione didattica, passiamo ora ai principi cardine di tale prospettiva. Questo schema mostra i pilastri teorici e metodologici della differenziazione didattica. Per una maggiore chiarezza espositiva approfondiremo innanzitutto il livello segnato dalla freccia rossa, per poi passare alla parte indicata dalla freccia azzurra. Per prima cosa, occorre ribadire che la differenziazione didattica si basa sulla conoscenza approfondita degli allievi. Verrebbe quindi da chiedersi, conoscenza di quali caratteristiche nello specifico? Possiamo rispondere a questa domanda ponendo l'attenzione in corrispondenza delle dimensioni segnate dalla freccia rossa. Si può differenziare la proposta didattica in base a Quest'ultimo è un contenitore che racchiude molteplici informazioni, quali? I modi di imparare degli allievi, ovvero i loro approcci, modalità, preferenze di apprendimento e o di intelligenze. I loro punti di forza e le loro possibili fragilità. I loro interessi personali e profili motivazionali. I background linguistici e culturali e altre dimensioni, quali, ad esempio, gli aspetti relazionali. Affinché l'insegnante possa differenziare una proposta didattica in base a una o più di queste dimensioni, è essenziale che organizzi occasioni di incontro interpersonale e di confronto, proponendo attività mirate alla conoscenza di ciascuno studente. Tale fase, fondamentale, chiamata di pre-assessment, consiste proprio nel rilevare e raccogliere questi elementi per differenziare la successiva attività didattica. L'insegnante sarà chiamato a decidere in primis cosa differenziare e poi come farlo. Si può agire su tre livelli distinti, differenziando gli aspetti segnati dalla freccia azzurra, ovvero il contenuto proposto agli alunni, il processo di elaborazione delle informazioni e il prodotto che i bambini elaboreranno al termine dell'attività. Vediamoli ora nel dettaglio. Differenziare il contenuto significa variare l'argomento, cioè l'input che viene proposto alla classe, a seconda delle prontezze, degli interessi o dei profili di apprendimento degli alunni. Differenziare il processo offre invece la possibilità di imparare attraverso percorsi diversi, caratterizzati dalla presenza di stimoli, azioni ed esperienze di apprendimento varie, alternative e diversificate. Infine, la differenziazione del prodotto avviene quando gli alunni hanno la possibilità di scegliere le modalità attraverso cui dimostrare il possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze previste dal percorso svolto. Non ha infatti senso differenziare il contenuto e il processo di apprendimento se poi viene chiesto agli alunni di elaborare allo stesso modo il medesimo prodotto finale. Questi tre criteri non sono opzioni alternative che si escludono a vicenda, ma possono essere utilizzati insieme all'interno della stessa proposta didattica. L'attività può quindi essere differenziata per contenuto, processo e prodotto, a seconda di ciò che l'insegnante decide in fase di progettazione. La proposta didattica partecipativa e coinvolgente che a fondamento della differenziazione didattica richiede infatti al docente di assumere un pensiero progettuale proattivo e ricorsivo che vede intrecciati quattro momenti tra loro interdipendenti l'osservazione, la progettazione, il monitoraggio e la valutazione. La riprogettazione dell'attività è insita nel processo progettuale del docente poiché il fatto di sperimentare nella pratica ciò che aveva precedentemente pensato può farlo scontrare con alcune variabili che non aveva opportunamente tenuto in considerazione, come, ad esempio, la definizione delle tempistiche. Un altro aspetto fondante questa prospettiva metodologica è il fatto che l'insegnante, decidendo di volta in volta come e cosa differenziare, crea continuamente dei gruppi flessibili che permettono ai singoli alunni di confrontarsi con compagni sempre differenti. Tali gruppi possono durare nel tempo, senza mai però diventare fissi. In questo modo, ad esempio, due alunni con interessi affini potranno lavorare insieme rispetto ad una determinata attività, ma trovarsi in un gruppo differente e con compagni diversi se il compito successivo previsto dal docente si baserà su gruppi composti per prontezze o per profili di apprendimento. Grazie.